Buongiorno a tutti da Valerio Villa e da Metropolis Immobiliare, vi do il benvenuto anche oggi in un nuovo video. Ci troviamo nel comune di Lugano Pregassona in una posizione veramente bellissima, nel verde, con tantissima privacy e molto soleggiata e quello che vi mostrerò oggi è un ampio tre e mezzo locali di circa 100 metri quadrati ai quali aggiungere il grande giardino e l'area terrazzata inserito in questa residenza meravigliosa di sole nove unità nel comune di Lugano Pregassona edificata nel 2019 con tutti gli optional di ultima generazione. Quindi rimanete con me che ci vediamo tra poco all'interno dell'appartamento subito dopo la sigla. Bene, quindi accediamo all'unità così da poterne visitare gli spazi, abbiamo ovviamente un bel ingresso dello stabile, come dicevo anno di edificazione 2019 quindi si può dire come nuovo, abbiamo una zona living nella quale accediamo appunto caratterizzata da questo bellissimo spazio con l'area cucina, una cucina moderna completamente accessoriata, abbiamo l'area pranzo quindi con un bel tavolo da pranzo, poi l'angolo divani tv molto comodo, sicuramente molto accogliente e da quest'area soggiorno possiamo accedere anche all'area esterna del giardino e anche terrazza, quindi abbiamo una parte di terrazza di circa 20 metri quadrati e un giardino di circa 120 metri quadrati decisamente ampio nel quale si può godere veramente di momenti rilassanti con la famiglia e anche di pasti all'aperto e quindi sicuramente ideale anche per chi ha bambini o eventualmente ama proprio gli spazi esterni anche perché siamo in una posizione davvero molto bella. Nella zona giorno abbiamo anche degli armadi a muro quindi delle ottime soluzioni anche salva spazio e poi per continuare nella visita abbiamo sul lato destro una camera da letto master quindi una bella matrimoniale molto spaziosa anch'essa collegata con l'area esterna del giardino e dotata di un bel bagno ampio con vasca quindi un bagno padronale direttamente all'interno della camera. Poi per completare la configurazione tre mezzo locali parliamo di circa 100 metri quadrati per quanto riguarda l'unità abbiamo un'altra camera quindi una seconda camera sempre collegata con il giardino da tutti i locali possiamo accedere all'area esterna e abbiamo ancora un bagno con doccia molto spazioso e come vedete tutto elegantemente rifinito. Quindi ricapitolando abbiamo visto un tre e mezzo locali di circa 100 metri quadrati con giardino privato pianeggiante in una posizione davvero stupenda nel comune di Lugano pregassona è una posizione con tantissima privacy lo stabile è stato edificato nel 2019 abbiamo in dotazione un posto auto nell'autorimessa una cantina e nella descrizione del video proprio qui sotto vi lascio tutti i dettagli di questo appartamento inclusi anche inclusi anche le dotazioni quindi tutte le specifiche quindi se volete leggere una descrizione completa la trovate proprio qui sotto così come il link per poter accedere alla scheda di questo specifico immobile all'interno del nostro sito metropolis immobiliare punto com io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di farci sapere se avete un immobile da vendere nel canton ticino poiché abbiamo da mettere a vostra disposizione un team specializzato e molto preparato e tantissimi anni di esperienza e ovviamente anche un sistema ormai rodato e funzionale per poter aiutare ognuno di voi nella vendita del proprio immobile quindi se hai un'unità immobiliare da vendere non esitare a contattarci al numero di telefono che lascio qui sotto così come tramite il sito metropolis immobiliare punto com io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati sui tantissimi contenuti e video immobiliari che pubblichiamo praticamente ogni giorno sul nostro canale e ovviamente anche di attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi contenuti e quindi vi auguro una splendida giornata e ci vediamo come sempre al prossimo video